bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo ritornati in questo nuovo video allora oggi farò la reaction alla season 8, ora ho aperto non ho manco visto la schermata di A premi per avviare, di dove sta scritto premi per avviare, qui si vede il riflesso e quindi siamo pronti per iniziare la reaction, 3, 2, 1, che? ma quella è un, raga quella è una banana no raga è bellissima sta skin, la voglio, voglio questa skin cosa ho appena visto? cosa sono quelle skin? che figata sono queste skin? ah, mo dovrebbe partire battagliare gli egiziani? non lo so perché ma vi sembrano degli egiziani, ditemi se anche a voi però vabbè dai, adesso che premo su battaglia reale mi dovrebbe apparire il trailer tutte le skin oh, con l'intenzione speciale per aver acquistato il pass battaglia della stagione 7 comincerai la stagione 8 con 5 livelli gratuiti, oh thank you vi ottiene chiudi cos'è la lobby? pass battaglia fatemi riscattare il pass, siamo pronti? via fatevi prendere il mio pass gratuito? ah, riscatta, 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 perché non me lo riscatta? ah, x, ho prima il tasto sbagliato pass potenziato adesso vediamo, allora cuore nero il temuto capitano dei mari tempestosi ibrido diventa il drago le sfide le sfide scoperta standard standard mimetica tropicale la stirpe e 100 v-bac poi questo no, raga lo zainetta allora, prego cosa? cosa? sfide sfide giornaliere raga hanno cambiato cuore nero re dei ghiacci zenith links wow, ragamo ce le mette così quelle dei personaggi raga è una raga pesce secco pesce secco i noi hanno messo lo stile hanno messo lo stile a pesce secco vabbè, allora andiamoci a vedere le due skin allora, abbiamo cuore nero quante fasi ha? otto fasi e quest'altro ibrido aspetta ma è che? è tipo il manny nuovo ma tre manny due ma adesso raga io direi andiamoci a vedere le altre allora cobra andiamo allora vediamo raggio di sole isola del tesoro una boccia raga raga poi albero di palma boccia di banana salve a te uh, un nuovo saluto ciao serpenti dei cieli forse dei serpenti questo è di... ah no, questo è stirpe una octopirata raga ma raga è lor è il... il cane è quello lì del trailer della season 7 sirena trifogli mantello reattivo mantello non reattivo lo stile in base al nulla, i forzieri aperti e se non c'è il telefoglio e sidewinder sidewinder ok eh vabbò c'è raga mi devo abituare passiamo allora quadrifoglio raga pallina la pallina tipo lo slime di minecraft poi raga questa copertura è bellissima aspetta cosa ho visto cosa ho visto cosa ho visto raga 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 perché raga raga ci sono i cannoni poi la regia dei ghiacci trenino ah aspettate prima prima il deltaplano cenere e adesso attraversamento raga che figata peperino nuovo woods woods pirata che figata boom ripa rima fantasma morso serpenti lucchetto cosa vedo a livello 47 questa schermata di carriamento quando l'ho vista la volevo troppo e alla fine l'hanno messa raga non ci credo solo che ogni volta io mi devo rifare tutto questo squadra speciale tricerato allora una copertura Woody che barba che noia che barba che noia Scalli Bananita cosa Bananana Cre Reattivo Matu Matura e cambia colore durante la partita non ci credo il cupido poi ibrido la schermata di carriamento Dogger maschera antica Frencher della ah no il cupido il cupido il cupido nuovo Grimaldello raga questo ci sta benissimo con la skin che ho io in questo momento poi la medusa poi la medusa gigi sca... sca... scaglie di drago fine nananana lo voglio collage di spray lo voglio per l'assistenza gli avevano messo quello la degli sticker ma hanno messo quello degli spray ci sta si dai ci sta si dai ci sta eh mamma mamma mi devo rifare tutto ah ok allora Dogger nero il bombarolo lucente quindi probabilmente ci sarà anche il bombarolo l'altro 200 metri Amber raga poi a crocevia del charpame raga sto passo è bellissimo lo completerò subito allora Amber ma io voglio troppo vedere cosa sono quei ancora sono quei come si chiamano i raga il polipo allora ai ah ai ok wuzzi oro wuzzi dorato e baby allora chiave master chi è chiave master? aspetta l'ho ancora visto ma perchè chi è ah eccolo chiave master no topolino è una cattiva persona allora vulcano fuglioso lusso raga perchè gli spray sono potenza stellare raga raga do germi oh raga raga il cavaliere ragno è quella lì che non mi ricordo il nome poi questo e adesso pietra preziosa ma che è il cubo uno stile per chiave master è lusso raga vediamo la scia che ho sbloccato raga sto passo è bellissimo ma io adesso aspetta vorrei passare a una cosa ovvio fatemi vedere le cose allora io non ho ancora visto la mappa quindi prima di tutto fatemi mettere una skin di questo pass quindi sopra i vabbè dai mettiamoci ibrido così per la prima la prima volta che li provo mettiamoci questo a casissimo che è da tanto che non lo uso adesso adesso iniziamo e andiamo a vedere se è successo qualcosa a Bosco Blateranti alla fine come doveva succedere facciamo abbassare il volume che però raga lo sfondo per la lobby ma sono uscite le settimane si che sono uscite perchè c'è questa? ah già è la schermata di caricamento che avevo selezionato io sapete la paura che mi sono pigliato pensavo che ti avevo rimasto alla season precedente raga che dite vado facciamo che parte apro la mappa questo è Spawn Island raga scalini scatenati laguna languida il vulcano raga vi segna quanti metri vi mancano ad arrivare raga mi sa che forse dovevo farmi una parco giochi ma che laguna languida voglio andare al vulcano raga si ma ora adesso spiega raga ma la lava fa danno ma comunque rip Bosco Blaterante ah no ma Bosco Blaterante c'è ancora è lì eh hanno tolto gli aerei eh si si come no e perchè qua c'è ancora l'aeroporto forse adesso è diventato il cannone porto che però raga veramente ma la lava fa danno facciamo io lo scoprire al tizio ma quel tizio aveva un jet bug raga raga cosa è sto vulcano cosa è essere con questo coso l'altro lì c'è pure un tizio e andiamo ce ne andiamo ce ne ha come si chiama scalini scatenati ma raga non mi ha ancora partito il trailer in tutto questo ma raga sapete che vi dico voglio solo sapere cosa è questo poi mi suicido e ce li andiamo a vedere bene in parco giochi condotto vulcanico si chiamano condotti vulcanici che è il nuovo condotti confusi eeeh la neve si scioglie la neve si scioglierà oemg a me non sembra proprio poi se a voi sembra non lo so vai andiamo a vedere in parco giochi ci vediamo anzi no farò due video questo è quello del pass e il prossimo sarà sulla mappa ciao